Oggi invece ha affermato che nel corso del G8, a fine mese, lui ricorderà il compleanno di Giovanni Falcone. Sapete bene che questo tipo di atteggiamenti stonano, stonano ma non sorprendono gli italiani, perché il nostro è un paese ormai cloroforizzato e narcotizzato. Noto che soprattutto la stampa inglese, il Times in questi giorni si è molto interessato delle esigenze sessuali di servizio per Rosconi e per noi vi sto all'arecchio, perché ricordiamo i pizzini che lui scambiava con le sue vetrine ministre all'interno del Parlamento, tra gli scambi del Parlamento. Ci fa piacere che la stampa estra se ne occupi, visto che la stampa italiana anziché fare il cane da guardia, fare il braconcino da compagnia. Ci fa piacere perché speriamo che qualcuno intervenga. Ci soffrede di fare invece che la stampa italiana in questi giorni si occupi del fatto che la regina barchetti i parlamentari, i deputati inglesi. Strano che la stampa italiana non si ricordi di quell'alto livello di delinquenti che ha all'interno delle sue aule, tra Montecitorio e Palazzo Madonna. Magari potremmo chiedere alla regina Isabetta, visto che ha già conosciuto questo aspetto clown da curare di Silvio Berlusconi, magari la regina potrebbe, perché non è una mancanza di stretto di confronto alla regina, anzi, probabilmente è stata l'aiuto nostra. Magari potrebbe pensare di inviare gli psicologi. No, vorremmo che spiegasse, soprattutto in Italia da Silvio Berlusconi, che c'è un limite oltre il quale non è solo l'indecenza e molto altro. E proprio per questo motivo vorrei, tra un'altra cosa a sottolineare, che voi non siete i nuovi dal problema mafia. L'Inghilterra, proprio in questi ultimi anni, da quando è entrato in vigore l'Euro, l'Inghilterra ha sostituito un po' quello che rappresentava prima gli Stati Uniti. Prima nel 2001 non c'era nessuna forma di controllo negli Stati Uniti a livello finanziario, soprattutto nei confronti delle banche. Poi nel 2001, stito dopo l'attentato, a novembre del 2001 è stato barato il patrio TEC. È una normativa complessa che vigila le banche, che le tiene sotto controllo, che ne esamina i conti, tutto quello che transica. È caro che questo patrio TEC non ci sia in Europa. dopo il 11 settembre del 2001, il dollaro ha perso il suo potere e l'Euro invece ha cominciato ad acquistare per il potere economico. Questo perché probabilmente per le mafie, per le associazioni criminali non era più così facile pulire i soldi passando proprio degli Stati Uniti, a causa di quel patrio TEC. Questo invece oggi accade in Europa, perché non c'è nessuna forma di controllo e l'Europa è diventata la lavanderia dell'associazione di tutte le mafie. TEC è diventata una lavanderia compressa, mondiale e Londra, proprio Londra, ha il proprio ruolo assolutamente strategico in questo meccanismo, a causa delle numerosissime lobby di banche che continuano a tacere. La presenza comunque, se poi vogliamo guardare un altro aspetto, la presenza spicciola di determinati personaggi in Inghilterra è un dato il fatto, la cattura di Gennaro Pansuto, la cattura di Anne Edway, che non è l'attrice ma è la moglie di Rimsidilo, un boss di Cosa Nostra, la quale disse a Panorama che lei era troppo presa a fare la casa lì e non potrebbe direttamente, non aveva avuto il tempo di capire chi fosse suo marito. La presenza di personaggi che in Inghilterra attraverso brand, attraverso aziende hanno cercato di pulire il denaro sporco, probabilmente anche a causa di una sottovalutazione del problema in più suzioni. Io prima di concludere vorrei sottolineare quella che è probabilmente un'interdipendenza economica tra l'economia illegale e l'economia illegale e che è l'assenza di un controllo di una normativa specifica, di una normativa che digini rende oggi più che mai l'Europa, soprattutto in Inghilterra, come taraglizzo fiscale, posto attraverso il quale continuano a transitare centinaia di milioni di euro per poi andare a finire nei cosiddetti conti di nessuno. Poco fa il presidente Danfaglia parlava del processo Mori, del fatto che nessun giornale italiano, nessuna televisione italiana parla di quello che, a mio parere, il più grande processo della Seconda Repubblica, noi nel processo ce l'abbiamo anche a carico di un altro ufficiale dei Carabinieri, un altro ufficiale dei Rossi che si chiama colonnello Coppino. In quel processo loro sono sul banco degli imputati. Chi accusa è un altro ufficiale dei Carabinieri che si chiama colonnello Michele Riccio. Il colonnello Michele Riccio accusa, nella quantispecie, il generale Mori, il colonnello Vino, di non aver voluto arrestare Bernardo Provinzano negli anni 90 a Corleone, incontrato a Montagna dei Cavani, nello stesso posto in cui è stato arrestato 13 di queste volte dicendo. Il colonnello Riccio fa una descrizione molto precisa di quello che accade in quel periodo. Il colonnello Riccio era diventato depositario delle confessioni di un boss siciliano, Luigi Lardo. Luigi Lardo aveva manifestato al colonnello Riccio la sua necessità di vendersi. Riccio chiede però a di non rendere pubblica subito la sua necessità, ma di continuare, di collaborare con le forze dell'ordine e di fare del titolo. Tant'amente qui l'ha accusato di questo, che in qualche modo degli imputati c'è anche un altro personaggio, il figlio di rubito Cincinino, si chiama Massimo Cincinino, il quale ha ammesso di aver fatto collanto che sia stato il legame nella trattativa tra mafia e stato. La stessa trattativa a causa della quale sono morti gioventa con Paolo Cincinino. Probabilmente ho dimenticato nel raccontarvi di alcuni personaggi, il ruolo di Marcello De Nuti, altro criminale controllato da l'associazione mafiosa, e vorrei dire che noi al piano con l'inizio dell'interno, con il quale dovrebbe intendere la sicurezza pubblica dell'Italia, avremmo pregiudicato, che è stato condannato con sentenza definitiva per aver alzannato a un colpaccio il poliziotto. Di fatto questo articolo 3 non esiste più, perché per quanto negli altri tribunali ci sia ancora scritto che la mezza è uguale per tutti, che io ricordo che attraverso la porcheria, il lodo porcheria, il lodo alfano, le quattro o più altre cariche dello Stato non sono al di sopra della legge, ma sono fuori legge. Per questi motivi, non solo, noi resistiamo e continueremo a resistere in nome di un paese che ha già pagato un tributo altissimo per la propria libertà, per la propria democrazia e per difendere la propria Costituzione. Ecco perché vi chiediamo oggi di comunicare a volte più persone possibili quello che avete sentito e che sentirete stasera. Grazie.